E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Gli enunciati di questo principio, che vengono sempre più confermati dalla scienza moderna e dalle sue ricerche, erano già conosciuti migliaia di anni fa dai maestri dell'antico Egitto. Questo principio permette di spiegare le differenze tra le varie manifestazioni della materia, dell'energia, della mente ed anche dello spirito, tutte riconducibili ai diversi stadi della vibrazione. Dal tutto, che è puro spirito, giù fino alla più limitata forma di materia, tutto è vibrazione. Più è alta questa vibrazione, tanto più elevata la posizione sulla scala della spiritualità. Lo spirito vibra così intensamente che sembra immobile, proprio come una ruota che gira tanto velocemente da sembrare ferma. Allo stesso modo, all'altro capo della scala, stanno forme di materia così rozze che il grado delle loro vibrazioni è talmente basso da far sembrare anch'esse immobili. Dai neutroni agli elettroni, dagli atomi alle molecole, per giungere fino ai mondi e agli universi, tutto vibra. Tenere a mente questo principio e le leggi che lo regolano fa sì che gli ermetici riescano a controllare le proprie e le altrui vibrazioni mentali, nonché i fenomeni naturali. Chi comprende questa grande regola ha in mano lo scettro della potenza.